Salute ragazzi siamo qui con un video alla luce che mi dà fastidio vabbè allora sarà tipo tre settimane che non faccio un video ma c'è una spiegazione, non picchiarmi, vi do la spiegazione spende un po' più anni perché se non mi vedete allora in pratica in questi giorni stiamo facendo le riprese per un video per lo speciale di Natalia che succede in un'uscita a proprio 20 centinaio di Natalia perché anch'io vado in vacanza ma c'era intorno a quei giorni e lo speciale quindi non ve lo dico che video è comunque dico solo che ci saranno tante persone e questo è il giorno affidato, pazzesco e niente cioè questo era proprio un video tipo di spazio di te, è un minuto un minuto della cazzo da no scherzo comunque l'ho detto la settimana lo faccio un video lo metto subito su youtube vabbè e quindi questo video è per darvi questo questo samunelfo questa questa notizia quindi non preoccupatevi se in questi giorni non faccio tanti video perché io i video li faccio però ho un interno su youtube perché ovviamente sono lì ah se volete scoprire che il speciale è il non so ancora che giorno esce perché proprio abbiamo iniziato il primo ripreso la settimana scorsa se le mie chiavi di casa comunque niente dico questo quindi lasciate iscrivetevi al canale lasciate un commento mi piace le solite cose gran cose su facebook lptv da gennaio da febbraio qui in quei mesi uscirà un nuovo ma nuovo 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 sito www.lptvlog www.lptvlog.com e vi dico anche cos'è è un sito che abbiamo tirato io in vita per la musica quindi come vedete comunque mi lascio iscrivetevi al canale un commento mi piace bella www.lptvlog.com